Non esistono parole per descrivere la bellezza e il fascino di Villa Barberino, relais lussuoso all'interno di una residenza storica. Giardini, fontane e decori sono i particolari che danno un tocco di esclusività alla location. Raffinata e spaziosa, la sala ristorante di Villa Barberino, arredata con oggetti d'antiquariato e mobili d'epoca, è in grado di ospitare 180 persone. All'esterno sarete affascinati dalla presenza di giardini all'italiana, suggestivi parchi ed eleganti fontane, nel contesto romantico della più dolce campagna toscana. La location si presta per un'indimenticabile cerimonia in loco. Villa Barberino ospita un evento al giorno e il suo staff di professionisti vi garantisce un servizio accurato e completo, che spazia dalla consulenza sulle decorazioni floreali all'impeccabile mise en place. Per un soggiorno di assoluto relax, la struttura offre eleganti camere e appartamenti dotati di ogni comfort, oltre a una cantina interna e una suggestiva piscina. Le antiche ricette toscane vengono rivisitate in chiave moderna dallo chef Simone del Puglia, appassionato cultore della cucina tradizionale. A Villa Barberino coronerete il sogno di un romantico matrimonio nel cuore della campagna toscana. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!